Giancarlo C. Desposito, candidato sindaco per il comune di Cuno alle prossime elezioni. Quest'oggi qui a Confreria un incontro per parlare del programma, per conoscere alcuni dei candidati consiglieri. Innanzitutto parto proprio da questo, dalla squadra, perché le liste sono state chiuse, certificate, ufficializzate. Che squadra ha a disposizione? Con che squadra si approccia a queste ultime settimane di campagna elettorale? La squadra è nata principalmente dai volontari che sono parte di questo movimento, che hanno voluto portarci fino a qui. Sono molto trasversali per professioni, circa la metà è di Cuneo, alcuni vengono dalla provincia e altri ancora da fuori sono proprio parte integrante, ad esempio il responsabile economico del partito Marco Santero, di origine cunese, ma adesso sta a Pisa e è uno dei nostri pilastri per quanto riguarda tutti i punti che toccano l'economia. Abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo sentito una grande esigenza anche da parte delle persone di far parte di un cambiamento, di portare una politica nuova e questo è stato evidente ed è quello che ci ha portato anche a questo risultato. Adesso partirà il mese dei confronti, delle tematiche più specifiche, quindi sorpassata un po' la burocrazia iniziale, si entra nel vivo dei temi che è un po' quello che ci preme. E proprio sui temi, le chiedo su quali temi punterete in questo rush finale che arriva della campagna elettorale? Sicuramente uno dei temi principali sui quali punteremo sono l'economia speculativa che sta entrando nelle istituzioni, il project financing che viene ormai utilizzato per le opere pubbliche che ci rende un po' schiavi di sistemi finanziari e tutta la speculazione che in realtà sta generando proprio molte di quelle che sono le scelte politiche in campo sanitario, in campo infrastrutture e che quindi vincola un po' quelle che sono le realtà comunali che invece dovrebbero essere più indipendenti e portate vicino al cittadino e a fare l'interesse al cittadino e non di finanziari o di multinazionali. Il cambiamento necessario è quello sicuramente di prendere una direzione decisa verso una transizione che sia di tipo energetico, di tipo ambientale, quindi una città sempre più ecosostenibile con le energie rinnovabili sicuramente ma con quelle che sono le comunità energetiche e quindi anche qui è un tema molto importante da non lasciare la speculazione. Temi che tra l'altro dall'Europa stanno calando dall'alto e che quindi stanno imponendo anche a tutti gli edifici pubblici di avere pannelli solari, bisogna cominciare a ragionare localmente partendo dalle famiglie, dalle case, sì dagli istituti, cioè dai palazzi comunali ma anche per quanto riguarda tutto quello che è la catena produttiva, quindi l'industria e accompagnarla verso una transizione che sia locale. Questa è una delle priorità più importanti. Il tema energetico ci sono poi sostenere sicuramente le aziende, un azzeramento immediato delle tasse quindi solo pubblico, immu sui fabbricati, aziendali o sui terreni agricoli sono una delle priorità sulle quali punteremo molto.